Benvenuti, benvenuti a questo video di commento della prima partita giocata dall'Italia agli europei under 21 contro la Francia. Europei under 21 che sono cominciati nella giornata di mercoledì con il pareggio tra Belgio e Olanda con la vittoria della Spagna, la comune vittoria della Spagna. Il giorno dell'Italia è iniziato nella giornata di giovedì, l'Italia ha perso 2-1 contro la Francia, una partita che mette subito in salita la corsa della squadra di Nicolato verso la qualificazione e successivamente il pass teorico verso l'Olimpia del 2024. E' chiaro che una partita di questo tipo lascerà a lungo una scena di polemiche, una lunghissima scena di polemiche per quanto accaduto la direzione arbitrale. Se ne parlerà a lungo negli anni, probabilmente per una serata disastrosa nell'ambito olandese dell'Indout che è stato anche azzavorrato, affossato dalla scelta incomprensibile dell'UEFA di non utilizzare per questa competizione nel VAR e nella online technology. Non c'è una spiegazione logica per una scelta del genere, se non una mera questione tecnica, ma neanche tecnica, ma di disponibilità di arbitri, visto che proprio nel campionato di Romania e di Georgia, tra l'altro, nella stagione appena conclusa, per la prima volta erano stati utilizzati sia il VAR che la online technology. Comunque questo significa che negli stadi in uso per questa competizione c'era la possibilità di utilizzare la tecnologia e anche il VAR. Non è stato così e per una sorta di punizioni divine l'UEFA si è trovata punita appunto perché mai come in questa partita c'erano episodi che avrebbero avuto bisogno dell'aiuto tecnologico per essere districati. È evidente che l'Italia si trova a commentare, a perdere una partita in maniera immeritata, almeno dal punto di vista degli episodi. Poi parleremo anche magari dal punto di vista tecnico ed è altrettanto evidente che a questo punto l'Italia si trova quasi spalle al muro. Domenica alle 18 ci sarà la presa contro la Svizzera da vincere a ogni costo perché qualunque risultato diverso dalla vittoria impedirebbe agli azzurri di essere ai padroni del proprio destino, a meno di un'improbabile scopita della Francia con la Norvegia. Qualora l'Italia non battesse la Svizzera, a prescindere dal risultato da Francia e Norvegia, all'ultimo turno Francia e Svizzera si qualificherebbero con un pareggio e l'Italia. All'Italia non basterebbe neanche battere i norvegesi. La Svizzera comunque è una squadra di buon livello, soprattutto la Norvegia che è la Cenerento del Girone. Ci sono giocatori che abbiamo incrociato anche in questa stagione nelle coppe con le italiane, come Ndoy, come Amdouni, attaccanti del Basilea, c'è Somm, cetrocampista, difensore, jolly del Parma. Quindi una squadra da prendere con le molle ma sicuramente un'Italia che per quanto visto questa sera è in grado di battere la Svizzera. Gli episodi inutili commentarli sono sotto gli occhi di tutti, il rigore negato nel secondo tempo per un fallo di mano chiarissimo nell'area della Francia e il gol, il gol 2-1, il gol decisivo, negato da Scherchi, originato da un fallo evidente di Guiri su Ocoli a centrocampo e praticamente sotto, quasi sotto gli occhi dei guardalini, una gamba, un gioco pericoloso, una gamba alzata, chiaramente fallosa. Poi l'Italia sta colpevole nella ripartenza ed è stato sciagurato Udogi nella scelta di cercare di controllare il pallone, di girarsi in area e quindi ha praticamente spalancato la porta a Scherchi, ma questo è un altro discorso. Ovviamente l'errore tecnico purtroppo ci sta, ci sta anche l'errore dell'albitro, però insomma, diciamo che sono stati tanti e poi il grosso lana, l'incredibile, vista sul cupo di terza di Bellanova nel finale, negli ultimissimi minuti, il pallone abbondantemente aveva varcato la linea, dopo il tentativo di salvataggio al difensore della Francia, il guardalini era obiettivamente impallato, l'arbitro molto meno, ma ancora una volta la decisione è stata contare all'Italia. Va detto che probabilmente c'era anche un rigore per la Francia, subito dopo il rigore non concesso all'Italia per una spinta nell'area azzurra di Rovella, però è evidente che il numero degli episodi è a favore, insomma, tra virgolette della Francia, è contro l'Italia. Scelta mia è appunto quella della UEFA di non utilizzare la tecnologia in questa competizione, è una scelta che in un discorso più ampio non spiega, insomma, il fatto che magari l'UEFA punti molto su questo torneo del 21, che è l'unico torneo insieme all'Europa del 19, insomma, continentale, organizzato dall'UEFA, che praticamente snobba gli under 20, che invece sono tornei organizzati dalla FIFA, è evidente che a livello mondiale c'è molta più attenzione verso questo tetto di età dei 20 anni, piuttosto che i 21, che in un calcio come quello moderno i giocatori mai hanno del 21, sono la maggior parte, insomma, sono già proiettate le nazioni maggiore e hanno già comunque gran padre, sono gran padre titolare nei propri club. Ma a prescindere da questo, insomma, diciamo che la serata è stata molto sfortunata per l'Italia, ci sono delle note positive, ci sono anche delle note negative, perché, insomma, sviscerato in maniera abbondante il discorso arbitrale, vuol dire che l'Italia che aveva trovato, nel primo tempo è stata sostanzialmente una partita poco spettacolare, diciamo che in generale la Francia ha sostanzialmente deluso, tra virgolette, la Francia ha mostrato di essere superiore all'Italia dal punto di vista del palleggio, sostanzialmente anche dal punto di vista tecnico, nel primo tempo la partita era molto tattica, molto bloccata, un'assenza totale di pressing da ambo i lati, la Francia molto palleggiante, guardi spagnolo per certi versi, l'Italia in attesa, poi ci sono stati gli episodi di gol, insomma, il gol bellissimo, insomma, il primo gol della Francia, insomma, di Quarimendi è stato veramente spettacolare, colpo di tacco su cross di Calulo, che praticamente ha reso impossibile sia l'intervento di Canesecchi che quello di Pirola che lo stava marcando, insomma, una protesta tecnica imprevedibile e poi l'Italia praticamente era bloccata, fino a quel momento non era riuscita mai a rendersi pericolosa, ha trovato il pareggio con uno stacco imperioso di Pelleghi sulla punizione di Tonali e per il resto, insomma, si era visto poco nel primo tempo più dal lato dell'Italia che da quello della Francia, perché comunque la Francia aveva dato l'impressione di essere, appunto, superiore al punto di vista del palleggio, ma sostanzialmente quasi mai incisiva. L'Italia è stata troppo monotematica, nel primo tempo, nel suo 3-5-2, lanci lunghi, per Pellegri, qualche cross, ma è stato praticamente sistematicamente scavalcato il centrocampo, dove comunque ci sono giocatori, c'erano giocatori tecnici come Tonali, come Ricci e come Novella. Molto meglio il secondo tempo, sia all'inizio, insomma, con gli episodi arbitrali che abbiamo detto, ma anche con qualche mossa tattica in più, Tonali molto più largo a destra e molto più incisivo di quanto non facesse Ricci dall'altra parte, supporto, insomma, dei tonali di Bellanova e si è visto molto di più, si è vista qualche combinazione in più al centrocampo, insomma. Poi è chiaro che fa specie, insomma, come l'Italia sia stata molto lacunosa anche nella fase, nella puntista tattica, con marcature preventive, anche nel primo tempo l'Italia ha subito qualche contropiede incredibile, insomma, squadra troppo lunga da subito, si è fatta trovare scoperta in troppe occasioni, appunto, assenza di preventive, assenza proprio di organizzazione a livello proprio di ripartenze subite, anche il gol del D1 è venuto da una ripartenza serpurbizzata da un fallo. Nel secondo tempo, nella parte finale del secondo tempo si è vista un'altra Italia, soprattutto dopo il passaggio cambio di modulo, il passaggio a 4-3-3 con l'ingresso di Cancellieri, Gnonto è stato poco incisivo fin quando è stato utilizzato da seconda punta, poi quando è andato a fare l'esterno con Cancellieri dall'altra parte, Pellegri in mezzo, con un centrocampo a terra, una difesa a 4, si è vista decisamente un'altra Italia e anche nel finale con il 4-2-4, con l'ingresso di Colombo, due punte, Parisi quasi più incisivo in 5 minuti, lui di Udoji in 80 e da qui, insomma, il cross per il colpo di testa di Bellanova che aveva ottenuto 2-2 era stato proprio di Parisi, ecco, quindi Italia sicuramente sfortunata, Italia punita da un arbitraggio infelice, Italia che comunque esce reinforzata tutto sommato da questa serata, la Svizzera ovviamente non è la Francia, ci sono tutte le possibilità per battere gli Elvetici a patto magari di non buttare via il primo tempo come è stato fatto al netto del risultato, al patto di scendere in campo con uno schieramento più logico che è poi quello che Nicolata ha usato in tutte le qualificazioni, un 4-3-3, insomma un gioco sicuramente più moderno, più europeo, più portato a costruire che non soltanto a lanciare palle lunghe, buona, buonissima la partita comunque di Pellegri che al netto del suo minutaggio scarsissimo con il Toro ha giocato 90 minuti anche dando ottime risposte sul piano fisico, talaltro la Francia è rimasta in 10 negli ultimissimi minuti per l'espulsione di Badè per un fallo sugnonto lanciato a rete ma non è riuscita comunque l'Italia a sfruttare l'espulsione america per i pochissimi minuti disputati, quindi Italia è sfortunata, Italia che esce comunque non certo ridimensionata dal punto di vista del gioco in particolare nel secondo tempo, certo la Francia ha più alternative, la Francia è più forte, ha più alternative anche in panchina, insomma nel secondo tempo sono entrati appunto i giocatori come Scherchi, i giocatori come Evai, insomma è chiaro che ci sono elementi più pronti anche nella Francia rispetto all'Italia, ma insomma il primo posto è quasi compromesso, eventualmente il secondo posto potrebbe far incrociare la Spagna nei quarti, quindi insomma il percorso si è fatto in salita, ma insomma la qualificazione ai quarti è più quella portata, sperando ovviamente in un arbitraggio diverso, visto che comunque il VAR non ci sarà neppure ovviamente nella prossima partita, in un'Italia più sul pezzo e più continua all'interno della stessa partita e anche magari meglio disposta dal punto di vista tattico, restate con il fuoricampo, l'appuntamento ovviamente all'analisi per la prossima partita Italia-Svizzera domenica alle 18. Grazie a tutti!